Siamo qui per parlare di un problema che affligge la nostra città, ovvero l'educazione del cittadino a come comportarsi sulla differenziata, sul vetro, sulla carta. Abbiamo delle novità in proposito, delle nuove ordinanze e quindi l'assessore giustamente vuole dire come comportarsi alla cittadinanza. Prego. Grazie intanto per essere intervenuti. Sicuramente, vivendo a paghino, ci rendiamo conto tutti che in questo momento il servizio della nettezza urbana, per tanti motivi, per una serie di motivi, non sta funzionando per com'era iniziato in realtà. Tengo presente che questo ormai è il terzo anno che facciamo la raccolta differenziata e noi ci accorgiamo in base poi al tipo di rifiuto che ci viene consegnato, quindi che viene raccolto, le percentuali di differenziata che esistono. In realtà nel primo periodo, che riguarda l'anno 2010, abbiamo avuto un'ottima percentuale di raccolta differenziata. Poi pian pianino la gente comunque tende anche a stancarsi o non volerla fare più e in ogni caso c'è stata anche da parte del Comune una pecca perché non abbiamo più distribuito i famosi sacchetti per la raccolta differenziata. Oggi tutto questo è stato superato perché abbiamo riorganizzato nuovamente il servizio e vorremmo prima di tutto, quindi prima di partire, dare un'informazione molto più in questo caso incisiva, avendolo fatto tramite le scuole innanzitutto perché abbiamo fatto veramente un giro di tutte le scuole, dall'elementare fino alle superiori e quindi abbiamo già dato il primo materiale informativo. Oggi, quindi a questa data, siamo in condizione di già dividere nuovamente i sacchetti che saranno disponibili la prossima settimana in via Catania, negli uffici di via Catania, all'ufficio tecnico, quindi uffici comunali di Pachino. Li divideremo per famiglia, ogni kit ha la durata di sei mesi, quindi il fabbisogno di un kit che viene dato ad una famiglia ha la durata di esattamente sei mesi. Quindi, via Catania, ascoltiamo bene, la famiglia va lì e c'è un nominativo che può usufruire di questi sacchetti, come funziona proprio nello specifico il discorso sacchetti da distribuire alle famiglie? Esattamente, noi li distribuiamo in base al censimento della tarso, quindi chi paga la spazzatura va là con gli estremi, quindi del proprio pagamento della tarso e ritira. Chiaramente viene segnato chi utilizza il kit, chi ritira il kit e chi lo utilizza chiaramente. È ovvio che i sacchetti non vanno consumati o dati più kit per più famiglie, perché capita che a volte in uno stesso immobile vi abitano più famiglie, ecco, quindi anche questo bisogna specificarlo quando si va a ritirare. Bene, ricordiamo e quindi facciamo vedere i sacchetti che vi verranno distribuiti in via Catania, insieme appunto al materiale informativo che ho qui tra le mie mani, quindi i colori associati alla giornata. Li vogliamo ricordare, Assessore? Allora, il lunedì, il mercoledì e il venerdì si tira fuori l'umido, fuori dalla propria abitazione, lo si ripone davanti alla propria abitazione, davanti alla propria porta di casa e lo si deve fare in un determinato orario. Quindi, generalmente, questo lo si fa tutti i giorni, quindi, della raccolta e cosa si fa? Cosa si inserisce nell'umido? È importante capire. Amanzi di cibo, scarti di cucina, bondi di tè, caffè, fazzoletti di carta umidi, cartoni della pizza, scarti vegetali vari, escrementi e lettieri di piccoli animali domestici, quindi va nell'organico, cenere e residua del camino spento e quindi dobbiamo ricordare che l'umido, così come altro tipo di sacchetto, non va riposto ad ogni ora davanti alla propria porta di casa, ma dalle 22 alle ore 8 del mattino. Quindi, prima di andare a letto, la mattina, prima di andare a lavorare, si ripone il proprio sacchetto in modo tale che, soprattutto l'umido, non crei tutta quella carica batterica a terra che possa magari procurare dallo scolo del sacchetto, perché ovviamente ci troviamo magari in presenza di scarti, di frutta, di bucce di frutta, quindi di materiale che può creare anche cattivo odore, soprattutto nel periodo estivo. Scusi se ne interrompo, ricordiamo l'orario che è interessante perché è indirizzato per tutte le tipologie di rifiuti, che delle ore 22 alle ore 8 non mettete i sacchetti prima o dopo quest'orario, dalle ore 22 alle ore 8 di ogni giorno. Poi abbiamo il colore azzurrino del sacchetto, che è il sacchetto del vetro. Nel vetro noi inseriremo vetri, vetro di ogni genere, quindi bottiglie e vasetti di vetro. Chiaramente si toglieranno i tappi quando non saranno di vetro, quindi plastica o la plastica. La giornata di raccolta è il mercoledì. Poi abbiamo, per quanto riguarda la carta e cartone, noi lì possiamo inserire qualunque tipo di sacchetto. Il sacchetto della carta è bianco, perché altrimenti non viene utile. È quello di colore bianco e noi li possiamo inserire carta, cartone, giornali, rivisti, i vecchi libri, carta da pacchi, scatole in cartone, cartoncino, documenti, registri di vario genere, che chiaramente debbano essere o di carta o di cartone. E questo viene sempre esposto fuori dalla propria porta di casa il venerdì, sempre dalle 22 alle 8. Poi abbiamo la plastica, la plastica che ha il colore giallo, anche un po' più grande degli altri, e la plastica comprende, plastica, bottiglie, buste e sacchetti, quindi di celofan, flaconi e detersivi e saponi, che peraltro dal 1 maggio 2012, con questa nuova normativa, anche le stoviglie, i piatti e i bicchieri di plastica che noi utilizziamo, se ripuliti bene, possono essere differenziati. E il giorno di raccolta è il martedì. Poi abbiamo, che sono praticamente quelli un po' più particolari, i rifiuti indifferenziati. Già lo dice il termine stesso, indifferenziato, perché non riusciamo a metterlo nelle altre categorie. E cosa sono? Queste sono stoviglie, piatti, bicchieri in plastica sporchi, che non vogliamo avere l'accortezza, perché magari sono tanti, di volerli ripulire. I pannolini per i bambini, assorbenti, garze e cerotti, stracci, lampadini, quindi tutto ciò che noi tiriamo fuori dai bagni, per dire, dai nostri sacchetti che utilizziamo in bagno, per dire, quindi lampadine, cocci in ceramica, cosmetici, vaschette di vario genere, polistirolo, ciò che prendiamo al supermercato, ecco. Il giorno di raccolta viene effettuato tre volte a settimana, martedì, giovedì e sabato. E il colore? E il colore, per l'indifferenziata non abbiamo un sacchetto ben definito, possiamo utilizzare i famosi sacchetti di plastica che ci vengono forniti quando facciamo acquisto. L'importante è che sia biodegradabile. Se ci avete fatto caso ormai anche al supermercato o nei vari tipi di genere alimentare, vendono questo sacchetto che effettivamente la gente si lamenta e dice che non è abbastanza resistente, però perché proprio è biodegradabile, come tutti i sacchetti che avrete in dotazione prestissimo, perché sono biodegradabili. La gente si lamenta perché magari sono poco resistenti, però purtroppo il fatto che debbano essere biodegradabili è una condizione, sino a quando non per effettuare la raccolta differenziata e quindi per smaltire i rifiuti. Quindi volevo ritornare su un argomento che qui probabilmente non è stato mai affrontato. Gli abiti dismessi, le pile esauste e i farmaci scadute. Come avete potuto notare in città ormai sono ben forniti, soprattutto nei centri più vicini, quindi dove vendono le pile esauste, dove vendono i farmaci e quella degli abiti dismessi. Che devo dire sta funzionando tantissimo. Vedo molta gente, anche dai risultati che la ditta ci sta dando, ci sta fornendo, c'è molta gente che in realtà utilizza questo mezzo per dismettere gli abiti, magari non sa chi darlo, vuole toglierseli di casa e riesce a darli. La stessa cosa sta funzionando sia per le pile esauste che per i farmaci, quelli scaduti, davanti alle farmacie troverete questo piccolo cassonetto giallo in cui poter sicuramente andare a dislocare questi rifiuti. La cosa più importante a cui tengo materialmente, voler dire alla cittadinanza che è già istituito, l'abbiamo istituito da parecchi anni, il servizio della raccolta dei rifiuti ingombranti. Quindi materassi, lavatrici, mobili, che a volte vediamo esposti in strada, così che veramente non è uno bello spettacolo. Quindi abbiamo un numero gratuito? Perfetto, gratuitamente il Comune ha messo a disposizione questo numero verde che vedete qui, 803 234, che sarebbe il numero dell'ufficio tecnico, quindi l'ufficio ecologia del Comune di Pachino, che prende tutte le vostre segnalazioni, ve lo vengono a ritirare fino a casa. Anche più volte alla settimana, quindi se avete l'impiccio di dover sostituire un elettrodomestico e non avete lo spazio dove tenerlo, basta telefonare, vengono a ritirarlo immediatamente senza dovervi scomodare. Quindi anche le persone sole, le persone anziane, che non hanno la possibilità di smettere un mobile, qualunque cosa, un materasso, un elettrodomestico, può benissimo telefonare, vengono a prenderselo fino a casa. Assessore, ricordiamo questo numero che è importantissimo, 0-931-80-32-34, lo vedete in solo impressione, telefonate gratuitamente, verrà chi di dovere qui da parte del Comune di Pachino e ritirerà i vostri oggetti ingombranti, materassi, ripeto, lavatrici, elettrodomestici, mobili, io ho visto di tutto a Pachino. Allora, in questo momento noi ci ritroviamo a fare la raccolta differenziata ad avere anche questi cassonetti dislocati in tutta la città. In realtà Regola vuole che i cassonetti non debbano esistere se si vuole fare la raccolta differenziata porta a porta. In questo periodo transitorio abbiamo pensato di tenerli fino a quando la gente, tutte le famiglie non avranno i sacchetti idoni per la raccolta differenziata e fino a quando non si entrerà a regime. Ma nell'arco di un mese sicuramente andranno tolti. La cosa che mi dispiace di più vedere però è che laddove non esiste il cassonetto esiste però il cumulo a scapito delle famiglie che abitano in quella casa e che viene tirato fuori qualunque cosa a qualunque ora. Diciamo pure che i cassonetti che sono dislocati non sono per tutti i tipi di rifiuti ma sono solo per la raccolta indifferenziata. Quindi in quei cassonetti verdi che noi vediamo c'è scritto solo raccolta indifferenziata tranne che in alcune aree non troviamo i cassonetti degli stessi colori dei sacchetti di plastica. Allora lì possiamo riporre ciò che ci riguarda. Però c'è da dire anche una cosa. Da qualche giorno a questa parte state vedendo che materialmente nei cassonetti sono affissi le ore e le giornate entro il quale potete buttare in modo tale che proprio subito prima buttate il rifiuto subito dopo viene scaricato il cassonetto. Questo è severamente vietato dalla legge però purtroppo la gente lo fa in qualunque momento appena finisce di pranzare, appena finisce di cenare o la mattina quando... Questo non è possibile farlo perché al di là di ogni cosa non può passare un servizio a togliere quel sacchettino che il cittadino si vuole togliere così in fretta e furia. Pertanto siccome è sanzionabile dalla legge e noi abbiamo anche acquisito un'ordinanza stiamo già facendo attraverso il comando dei vigili urbani che hanno istituito una pattuglia a parte delle multe purtroppo un po' salate però è l'unico sistema per far capire che il rifiuto lo facciamo noi e dobbiamo imparare a saperlo gestire. Ci teniamo a fare una campagna informativa perché non è il nostro intendimento andare a punire nessuno. Ripeto anche noi come amministrazione abbiamo le nostre pecche perché ci mancherebbe un servizio deve funzionare però da entrambi le parti cioè dalla parte nostra attraverso il servizio ecologia quindi attraverso la ditta e da parte del cittadino che comunque deve collaborare. Quindi evitiamo di riempire in modo stracolmo questo cassonetto e poi di farci scrivere sui giornali che siamo sporcaccioni in tutta la provincia e non. È chiaro che quando non riusciamo a gestire il rifiuto il rifiuto resta lì. I sacchetti sono sempre sacchetti e non sono antirrandaggismo quindi i cani, i gatti cercano sempre di quindi se lo tiriamo fuori magari un poco prima che passa il servizio di nettezza urbana è cosa gradita. Cioè serve evitare che poi la signora l'indomani deve andare lì a pulire perché è chiaro che è davanti porta di casa nostra. Tra l'altro ricordiamo che in passato questi cassonetti, questi grandi di colore verde erano stati appositamente messi lì per le attività commerciali se non erro. Il cittadino ne ha approfittato però ricordate che comunque quando prendete il vostro sacchetto e lo riponete sul marciapiede esempio in via Cavour e c'è questo marciapiede oppure in via Nino Bixio è illegale e quindi la multa se vi viene fatta ben ci sta perché se poi il paese è sporco sì il comune ha le sue pecche ma la colpa è anche nostra dei cittadini che col sacchettino e lo lasciamo a marcire sotto il sole lì. Quindi veramente seguite questo avviso che appunto verrà distribuito per entrare la cittadinanza più presto. Già sono disponibili sia la campagna informativa, l'ordinanza che è stata emessa anche per il discorso del vetro del cane che viene portato a spasso perché sono tutte normative ben regolamentate e che noi abbiamo dovuto anche acquisire quindi se si vuole iniziare sin da subito anche senza sacchetto basta ritirare l'ufficio tecnico comunque a puntarsi le giornate e voglio dire l'importante è che il sacchetto è biodegradabile, poco importa noi l'abbiamo fatto questo proprio per aiutare il cittadino a migliorare il servizio anche perché su Marzamemi dai primi massimo entro i primi di luglio toglieremo i cassonetti perché stiamo provvedendo ad acquistare bidoncini per le famiglie e per le attività commerciali che sono dei bidoncini proprio personali che utilizzeranno che sono proprio antirandaggismo sono per i locali quindi fatti ermetici per gli odori e quant'altro che dovranno tirare fuori. Stiamo cominciando con Marzamemi con i bidoncini perché è più piccola, è più gestibile perché il cassonetto nei confronti del turista sicuramente è indecente anche perché non lo sanno gestire parliamoci chiaramente che troviamo a volte anche delle scie che portano quindi gli indizi ce l'avremmo tutti per far capire che non si può fare. Nel contempo abbiamo già individuato due aree ecologiche che sono le famose aree in cui il cittadino se non vuole tenersi perché deve partire o perché ha esigenze o perché ha cucinato delle cose di cui non vuole sentire l'odore può andare in questa isola ecologica e buttare il ma attenzione perché sono delle aree videosorvegliate per cui troverete già lì cosa fare e dove buttare. Occhere telecamere. Purtroppo sì perché in altre aree soprattutto dove stanno buttando molta Ethernet non riusciamo più a far fronte a questo genere di veramente di inciviltà perché purtroppo ha un costo non indifferente e anche la polizia di Stato qui al commissario di Pachino sta attenzionando molto questo genere di reati non ci resta altro che mettere le telecamere e multare chi di conseguenza perché purtroppo questa cosa si sta ritorcendo contro di noi che la polizia di Stato chiaramente si rega in comune. Bene, ripeto, sicuramente avrete preso nota dei numeri che avete visto in sovraimpressione, delle giornate, mi raccomando, da oggi cambia qualcosa, rendiamo tutti Pachino pulita, principalmente noi cittadini. Anche su questo numero se avete dubbi, qualunque cosa o se segnalate qualche persona, penso che sia più di una persona, se avete segnalazioni di gente abitudinaria, di attività commerciali che probabilmente non si comportano molto bene, noi non siamo per le multe però possiamo andare lì, possiamo anche magari spiegare, capire qual è la problematica perché con i supermercati l'abbiamo fatto perché hanno chiaramente dei rifiuti che non sono indifferenti però li abbiamo aiutati, spesso il servizio passa più di una volta quindi quando c'è la collaborazione non si arriva a questi livelli. E poi io voglio ricordare una cosa che è importante, ciò che sta davanti alla nostra porta è vero che non ci appartiene, però è davanti a casa nostra, tenerlo anche pulito e io vedo che ci sono molte signore, molte signore per bene veramente che puliscono fuori come se fosse casa sua perché del resto è così, ciò che hai buttato lì lo porti in casa, quindi tenerlo pulito ne va della nostra stessa immagine e dignità. Certo perché poi quando Pachino Cammino si fa quei video bruttissimi ci vedono in tutto il mondo e da oggi invece questo non deve accadere più. Io ringrazio l'assessore Tossani per averci ospitato e per averci illustrato come comportarsi da oggi cambia il modo di fare lì la differenziata a Pachino. Grazie veramente. Grazie a voi e spero che questo messaggio nostro possa essere stato utile per tante persone che magari ancora oggi non hanno ben compreso il vero senso della raccolta differenziata. Grazie. Grazie a lei. Da Ivan Zortino qui da Palazzo Municipale a Pachino è tutto, grazie per averci seguito, arrivederci alla prossima.